Musica Mercoledì 30 agosto, ben ritrovati e ben ritrovati al TG Rassegna Stampa di Telepace. Questa è la seconda edizione, partiamo subito a vedere quello che è il meteo che ci attende per la giornata di oggi ma anche per le giornate seguenti in generale c'è un miglioramento delle condizioni meteo meno pioggia, meno instabilità e in generale comunque sempre qualche nuvola. Andando nel dettaglio, andando a vedere quella che è la situazione per la mattinata di oggi vediamo cielo poco parzialmente nuvoloso con qualche cumulo più consistente nelle aree interne che come vedremo poi sono anche quelle più sensibili all'instabilità in questi giorni e comunque tempo nel complesso asciutto. Dal pomeriggio sarà possibile la formazione di qualche rovescio in appennino sia alle spalle dell'estremo ponente che alle spalle del Levante e non si esclude un parziale interessamento, quindi anche qualche goccia nel Tiguglio appunto sulla costa del Levante. Prevalentemente soleggiato invece altrove su tutto l'arco della Liguria. Per quanto riguarda i venti, saranno deboli o al massimo variabili ma rimosso in calo durante poi tutta la giornata. Le temperature sono stazionate nelle minime e in lieve calo nelle massime. Nel dettaglio sulla costa potremo avere temperature che vanno dai 16 ai 27 gradi e nell'entroterra temperature che vanno dai 9 ai 20 gradi centigradi. Abbiamo un'occhiata veloce anche alla giornata di domani, giovedì 31 agosto. Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su tutta la regione con qualche piovasco rovescio solo nelle zone tra la Val Trebbia e la Val Daveto. Venti tesi di scirocco sul centro Levante, deboli da nord-est a Ponente, mare leggermente mosso e temperature che saranno in leggero aumento. Rimarrà comunque la differenza termica molto marcata che c'è in questi ultimi giorni dopo le precipitazioni che ha interessato la regione tra domenica e lunedì quindi comunque con temperature più basse in serata, notte e prima mattinata. Andiamo subito a leggere le prime pagine dei giornali. Partiamo da Avvenire che dedica il titolo di apertura alla guerra in Ucraina vediamo stanchi delle armi, calano le reclute volontarie sia in Russia sia in Ucraina segnali della voglia di pace. Kiev intensifica la controffensiva, la nostra bandiera sulla riva a sinistra del Dnepr appunto annuncia il governo ucraino e si moltiplica nei caduti e non si trovano sostituti sostituti naturalmente per andare a combattere al fronte e a San Pietroburgo sono stati celebrati in forma privata i funerali di Prigojin. La fotonotizia a centro pagina è dedicata alle proteste che ci sono state ieri a Londra vediamo gli ingressi a pagamento Londra scopre la protesta l'esordio della ZTL è allargata per le auto inquinanti appunto ha fatto scattare questa protesta di alcuni cittadini. La cronaca a Milano un'altra ciclista uccisa da un camion all'arma e sicurezza, questo perché non è il primo caso dall'inizio dell'anno e poi i lavori del governo che sta pensando alla prossima manovra vediamo Cuneo taglio per un anno, un segnale sulle pensioni pressing per dare alle famiglie 2 miliardi di risparmio dell'assegno unico. All'interno del giornale poi un'inchiesta sulla Sardegna, vediamo ecco la Sardegna che fatica a pagarsi casa bollette e farmaci e poi ha aggredito prete antidroga a Roma sulla scuola il 2024 l'anno della parità a venire dice servono fondi e sui vali chi chiusi traffico in tilt al nord e allarme per l'export italiano. Tra gli altri temi vediamo, si parla di divario digitale Italia lumaca nell'internet super veloce e sull'ambiente in Europa a rischio il Green Deal. Andiamo quindi a sfogliare proprio le pagine del giornale e partiamo proprio dalla Sardegna dall'inchiesta sulle condizioni di povertà che stanno riguardando sempre più persone nell'isola indebitati per casa bollette e farmaci ecco la Sardegna che teme il futuro chiese e istituzioni fanno quadrato contro l'emergenza abitativa e il caro vita c'è più gente in mensa ed empori solidali pesa lo stop del reddito di cittadinanza e così l'emancipazione sociale di molti è di nuovo a rischio. Le foto che vedete arrivano dalla mensa della Caritas di Occesana di Cagliari che da luglio è passata dai 250 ai 300 pasti al giorno. In Sardegna sono in tutto 5.000 le persone che hanno perso il reddito di cittadinanza. e parla l'Arcivescovo di Cagliari che dice va messo a tema un concetto di sviluppo capace di superare le condizioni strutturali di diseguaglianza. Vediamo poi sempre parlando con le Caritas del territorio questa volta però a Palermo il grido di aiuto crescerà in autunno dalle Caritas a Sant'Egidio da Speranza Carità al Comune la rete contro il disagio si rafforza. Si fa sempre più strada un disagio profondo e diffuso Don Sergio Ciresi dice il povero contemporaneo ha un'età in media compresa tra i 40 e i 60 anni spesso ha un'istruzione bassa e registriamo un aumento delle donne. Parliamo adesso della rete internet delle difficoltà dell'Italia vediamo Italia Lumaca sull'internet super veloce piano da 2,8 miliardi per connettere tutti. Il governo ha presentato una strategia triennale per recuperare sulla banda larga qui si parla di recuperare perché molti paesi nell'Unione Europea sono più avanti sono più sviluppati da questo punto di vista rispetto all'Italia e vediamo appunto degli interventi sulle infrastrutture e lo sviluppo di servizi basati sul 5G risorse ad hoc per scuole e strutture sanitarie. Qui ci sono anche dei numeri appunto sulla questione vediamo 12.000 che sono le strutture del servizio sanitario a cui il governo conta di fornire una copertura adeguata cioè una connessione in linea con gli standard europei e questa connettività minima di cui si parla è di un gigabit al secondo. E sono 400 milioni di euro stanziati per una rete di ritorno in fibra ottica di proprietà pubblica lungo le tratte ferroviarie. e vediamo c'è anche un'intervista a Maximo Ibarra che è CEO di Engineering scusate e dice un'alleanza politica e imprese sul digitale l'innovazione va avanti e una collaborazione determinante per governare i processi e individuare le priorità. Andiamo adesso a Londra per la protesta che appunto è stata messa in scena ieri vediamo l'esodio della ZTL più grande del mondo Londra regge l'urto ma la protesta cresce. Cortei spontanei piccoli blocchi all'accesso della zona che è stata estesa a tutta la capitale 12 estrelline e 50 per chi vuole violarla e telecamere piazzate ovunque bersaglio di tutti il sindaco Khan qui appunto è stato esteso il divieto per Londra di entrare a chi ha i veicoli più inquinanti e d'ora in poi potranno circolare solo veicoli Euro 4 se a benzina o Euro 6 se a diesel. Le restrizioni sono valide tutti i giorni a tutte le ore e secondo appunto Londra questo piano dovrebbe permettere di far risparmiare tra virgolette 27.000 di tonnellate che sarebbero in meno emesse di CO2 per il primo anno di ampliamento della ZTL e 110 milioni sono stati appunto la quantità di sterline stanziate in totale per la rottamazione dei veicoli inquinanti. Vediamo adesso gli ultimi sviluppi del conflitto in Ucraina vediamo a Mosca sono in crisi gli arruolamenti anche a Kiev in calo la corsa alle armi entrambi i combattenti rivendicano pesanti perdite tra le fila dei nemici di fatto il patrottismo sta scemando sopraffatto dalla stanchezza di uno scontro che dura troppo tempo. Qui vediamo anche nella foto un reclutamento di volontari ucraini in una piazza di Kiev e per quanto riguarda la Russia nonostante gli stipendi da 5.000 euro il Cremlino è accorto di reclute mentre gli ufficiali sono stati decimati in quasi 19 mesi di combattimento. Vediamo poi il reportage d'Odessa non si lotta solo per il grano i simboli russi sono duri a morire nella città della scalinata Potomkin rimane lo scontro sulla derussificazione dei monumenti. Obukov che è capo della commissione di trasporti sta nascendo un sentimento liberista. Sempre su avvenire veniamo alle difficoltà per le chiusure quelle in essere quelle annunciate dei tunnel dei trafori alpini vediamo l'Italia nel tunnel dei valichi trasporti in tilt e allarme export cresce il pressing per rinviare la chiusura per lavori del Monte Bianco prevista dal 4 settembre se il traforo del Fregiù non dovesse riaprire ai mezzi pesanti entro lunedì. La frana di Savoglia blocca 13,8 milioni di tonnellate di merci e resta al nodo del Brennero. Per avere un'idea sono 49,4 milioni di tonnellate di merci che sono in transito ogni anno via gomma quindi diciamo via autostrade che passano per i trafori e via ferro quindi via ferrovie lungo questo lungo l'asse del Brennero. è 30 il numero dei treni dell'autostrada alpina ferroviaria in transito settimanalmente sul Fregiù e 18 che sono gli anni necessari previsti lavorando 4 mesi all'anno per rifare la volta dei tunnel del Monte Bianco che sono diciamo interventi di manutenzione necessari appunto per il tunnel del Monte Bianco proprio per diciamo evitare possibili danni strutturali più avanti. passiamo adesso alla prima pagina del secolo XIX in primo piano le imprese in primo piano il lavoro vediamo SOS dalle piccole imprese in Liguria aumentano le chiusure più 36,3% e soffrono in particolare commercio servizi ed edilizia buoni segnali invece dall'infiltoria femminile caso super bonus del 110% in Italia 30 miliardi di crediti bloccati a famiglie e aziende e su questo c'è l'analisi di Mario De Aglio che dice la crisi globale che pesa sulla finanziaria e intanto il governo per diciamo raccimolare qualche soldo è pronto a provare a fare nuove privatizzazioni vediamo dossier di Giorgetti sulle privatizzazioni si parte da Monte dei Paschi di Siena e Ferrovie dello Stato sempre all'interno del giornale Porto di Genova Grimaldi Rilancio fatto ricorso all'antitrust è il caso del Terminal San Giorgio e la Lega Genovese avvisa il governo stop ai migranti la città è satura quindi polemiche diciamo sull'accoglienza dei migranti la fotonotizia è dedicata a IESAN io rider senza paura nella bufera si tratta di IESAN Rahman che è il ciclista del video di Genova quello che appunto raffigurava raffigura un rider che stava lavorando nel diciamo nel nubifragio della serata tra domenica e lunedì e sul tema parlano i sindacati il contratto collettivo l'intesa non rispettata consegne sospese in condizioni di pericolo il taglio alto denuncia a Genova baco al casello di autostrada e lo scooter paga come il bus e sul delitto di Mahmood ucciso e fatto a pezzi le indagini proseguono a rapallo e poi lo spazio piena luminosa e vicina notte con la super luna blu continuiamo sfogliando le pagine del secolo XIX si parla tanto del governo che sta lavorando alla nuova manovra finanziaria in questi giorni vediamo manovra PD all'attacco niente soldi solo tagli la CGL chiede un tavolo di confronto l'opposizione lancia l'allarme sulle carenze di risorse per la sanità e l'istruzione e Schlein dice il governo non mantiene le promesse landini pensioni e salari da tutelare e sempre in ottica manovra finanziaria per trovare più soldi il governo sta pensando se fare alcune nuove privatizzazioni vediamo il tesoro studia cessioni ma mantenendo il controllo in cima alla lista ci sono monti dei paschi di Siena e possibile anche scendere diciamo nella quota di possesso del governo nella società Eni intoccabili invece le quote Enel Ita e Dissant Microelectronics parliamo adesso del super bonus 110% che in questo titolo il secolo lo definisce incubo super bonus crediti bloccati per oltre 30 miliardi coinvolte 200.000 famiglie e 180.000 cantieri la piattaforma per liberare le risorse al palo e c'è l'ipotesi che il governo possa fare un decreto ad hoc per liberarli qui ci sono anche tantissimi numeri che riguardano i cantieri del super bonus dall'inizio diciamo di di questa misura fino al 31 luglio 2023 e sempre sul tema salasso senza fine per il tesoro costa 3,5 miliardi al mese l'aggevolazione ha causato un calo di gettito di 74 miliardi arriviamo adesso a quello che era il tema in primo piano sul giornale di oggi imprese liguri e crisi aumentano le chiusure in fumo 3.000 posti di lavoro sono i dati del secondo trimestre in sofferenza e soprattutto il commercio cosa dicono questi dati che nel secondo trimestre del 2023 le imprese che hanno cessato le attività in Liguria sono state 1.873 ossia al 36 3% in più rispetto allo stesso trimestre del 2022 a soffrire diciamo come zona e soprattutto quella del capoluogo quella di Genova e i settori più colpiti sono stati quelli dei trasporti delle spedizioni e del commercio ci sono anche alcune storie sia di chi ha aperto nuove attività e di chi invece ha dovuto chiudere le proprie abbiamo realizzato i nostri sogni ispirati dalle eccellenze regionali a parlare alla giovane coppia in affari del produttore che punta tutto sul pesto e c'è anche una storia di chi invece ha deciso di chiudere ho chiuso l'azienda di mio papà meglio una vita da dipendente Gianluca oggi è capocantiere amo il mio lavoro contento della scelta continuiamo a sfogliare il secolo XIX e parliamo del caso che riguarda il conduttore televisivo Andrea Gianbruno Gianbruno cade sulle donne se evitate di ubracarvi magari il lupo non vi trova ha detto buffera per le dichiarazioni del compagno della premier durante la trasmissione diario del giorno e Schlein attacca è inaccettabile colpevolizzare le vittime lui si difende una polemica surreale c'è anche un articolo dedicato proprio alla figura di Andrea Gianbruno da uomo invisibile a principe gafferri il partner che in tv imbarazza Meloni il giornalista teorizzava un ruolo defilato poi la conduzione su rete 4 con la nascita del governo i casi su clima rapporti con Berlino e ora sugli stupri e ieri sono state annunciate anche le dimissioni di Marcello De Angelis che era il capo della comunicazione di Regione Lazio vediamo va via il portavoce della regione mostruosa macchina del fango ma mi sento vergognosamente responsabile per la canzone antisemita ripercorriamo velocemente quello che è accaduto De Angelis a De Angelis era stato chiesto di dimettersi qualche settimana fa dopo che lui aveva fatto un post sui suoi profili social in cui sostanzialmente sosteneva una versione diversa dalla versione giudiziaria della versione storica del caso della strage di Bologna anche per la sua vicinanza personale ad alcuni dei responsabili appunto dell'attentato della stazione di Bologna era stato chiesto quindi a lui di dimettersi dal duolo di capo comunicazione della regione Lazio che è comunque un duolo istituzionale lui aveva rifiutato e poi adesso ha deciso perché negli ultimi giorni sono riemersi sono uscite delle canzoni che lui aveva scritto e cantato da giovane con testi e contenuti apertamente antisemiti e quindi ha deciso lui stesso a questo punto di dimettersi si parla anche della ministra del turismo Daniela Santanchè che ha trovato a un accordo col fisco niente fallimento per appunto la società della Santanchè che dovrà restituire il milione e mezzo dovuto in dieci anni e per quanto riguarda il ministero del turismo sullo spot della Venere sullo spot di promozione turistica dell'Italia ora indaga la Corte dei Conti e si sospetta che c'è stato un danno irradiale per lo Stato perché questa campagna è costata molto e però sembra che nelle ultime settimane sia stata un po' abbandonata torniamo adesso in Liguria e parliamo dell'accoglienza dei migranti la Lega avvisa piante e dosi il ministro dell'interno Genova è satura basta arrivi continuiamo a leggere il secolo XIX siamo in Liguria si parla dell'accoglienza dei migranti e la Lega avvisa piante e dosi il ministro dell'interno dicendo Genova è satura basta arrivi i rappresentanti Liguri del partito al ministro dell'interno abbiamo fatto la nostra parte ora non ci sono più spazi e c'è il caso del vescovo di impegno Sanremo Monsignor Antonio Suetta che sarà alla festa della Lega un dibattito nessuna adesione politica dice lui continuiamo a leggere adesso anche il secolo XIX dedica uno spazio ai progressi nel conflitto tra Russia e Ucraina e in particolare si parla di Putin che esce dal bunker e vola in Cina da Xi Jinping Kiev intanto avanza oltre il Dnipro mano tese del presidente cinese l'invito per il vertice sulla via della seta a ottobre si rafforza quindi l'asso e Mosca a Pechino e gli Stati Uniti annunciano nuovi aiuti militari per Kiev arriviamo adesso alla notizia a cui è stata dedicata la foto a centro pagina nella prima pagina appunto del quotidiano di oggi e partiamo da quella che è la situazione contrattuale per i fattorini i rider vediamo consegna a domicilio il nodo del contratto CGL e CISLE e UIL intervengono sul caso di Genova e dicono stop al servizio dei ciclo fattorini se c'è allerta arancione allerta arancione che ricordiamo è il grado più alto di allerta in caso si tratta solamente di allerta per temporali quindi per diciamo forti perturbazioni ogni forte pioggia ci sono anche dei numeri sono più di 570.000 gli italiani che hanno ricavato un reddito da piattaforme tra il 2020 e il 2021 qui si parla di piattaforme che diciamo permettono di lavorare come fattorini per le consegne a domicilio e più di 268.000 quelli che dichiarano di aver lavorato per due piattaforme contemporaneamente arriviamo adesso alla testimonianza di Isan Ramani che è il rider e il protagonista del video in cui appunto c'è questo fattorino che lavora nonostante la fortissima pioggia che c'è stata a Genova domenica sera e dice nessuna paura è stata una sfida l'ho fatto per guadagnare di più questo perché ricordiamo che alcune piattaforme danno un diciamo un supplemento di paga se si lavora in diciamo particolari condizioni meteo avverse e il rider che ha consegnato le pizze storate in pesta dice così aiuto la mia famiglia e per la cronaca nell'articolo si spiega anche il rider spiega anche che nonostante queste borse per le consegne siano impermeabili le pizze che sono state consegnate in quella foto sono arrivate bagnate al cliente che però diciamo ha capito la situazione di stato comprensivo e poi la piattaforma ha sia pagato il fattorino che rimborsato il cliente che aveva ordinato le pizze e sono arrivate bagnate andiamo adesso sulle pagine del Levante e torniamo a parlare di cronaca il delitto di sestiponente nuove verifiche le indagini si allargano adesso anche a Rapallo sono stati analizzati appunto alcuni video nel comune di Rapallo e nei giorni scorsi i carabinieri hanno sequestrato scarpe vestiti ai presunti killer piedi c'è stato anche il funerale di Alessio Grana l'uomo di 35 anni che è stato ucciso nei giorni scorsi a Santa Margherita Ligure sui sviluppi di una lite condominiale e comunque si continua a parlare del caso e diciamo dei progressi degli inquirenti e di come sta proseguendo parliamo adesso di turismo Baia del Silenzio sempre sold out domani finisce il numero chiuso costantemente esauriti sin dal mattino i 400 posti disponibili ma col turnover nel complesso ci sono stati molti più accessi in Baia e sempre a Sesti Levante si parla della piscina che è stato un tema di discussione piuttosto acceso in consiglio comunale nel consiglio di lunedì sera Pistacchi e Conti sono due consigli di minoranza attaccano il sindaco Solinas e la seduta è stata anche sospesa mezz'ora la maggioranza l'amministrazione di Sesti Levante ha cancellato il progetto della società MySport che gestiva appunto l'impianto a Moneglia dopo il crollo di maggio dell'albergo maggiore c'è stato un incontro tra il sindaco e il comitato centro storico di Ponente per parlare sostanzialmente di quello che è il progetto che riguarda l'area attualmente il cantiere comunque ricordiamo che è sotto sequestro appunto per permettere di capire diciamo di chi sono le responsabilità del crollo a Rapallo c'è un nuovo candidato sindaco il terzo Tosi ora è ufficiale scendo in campo per fare il sindaco amo la mia città il fondatore del Gabbiano che è una diciamo lista storica delle elezioni di Rapallo con Bagnasco Senior è in pista e dice chi occupa quel duolo deve farlo senza ambire ad altro è il terzo a presentarsi come candidato delle prossime elezioni dopo Armando Ezio Capurro e Andrea Carrannante Tosi dice l'inquinamento tra i problemi principali ma anche la pulizia delle strade serve cura e Gaglia Mainieri con Capurro condivido le sue idee per migliorare Rapallo medica e prima donna presidente Lions che ha dichiarato il suo sostegno per Armando Capurro sempre da Pallo parliamo di spiagge prelievo Arpa al batteri in mare balneazione vietata nella spiaggia delle Saline è il secondo dell'estate dopo quello scattato nella zona delle Nagge il sindaco è l'unica volta in cui si è stata fatta una verifica durante l'allerta rancione ma domenica la città era stata la più piovosa della Liguria quindi il sindaco dice che il motivo è legato alle forti piogge tra domenica e lunedì parliamo adesso della settimana nazionale liturgica ieri a Chiavari c'era il presidente della conferenza episcopale italiana Zuppi vediamo il cardinale Zuppi ricorda il sacrificio di Don Puglisi i valori come antidoto all'insulso individualismo Chiavari celebrazione in cattedrale per la settimana nazionale liturgica e ricordiamo per chi ci stesse seguendo che su Telepace 1 è in corso la diretta appunto del programma di oggi della settimana nazionale liturgica in cattedrale noi proseguiamo a sfogliare il secolo XIX e parliamo di meteo termometro impicchiata ora la fa è solo un ricordo dopo le burrasche e l'allerta registrati anche 20 gradi in meno in alcune città il previsore dice tornerà al sole le temperature risaliranno prima del weekend massime minime forbice larghe in tutto il Levante sia sulla costa sia nell'entroterra musica gastronomia e fuochi che attorno ritrova la sua festa a Moconesi la Madonna della Guardia e ripropone la competizione tra alta e bassa Rezoaglio celebra Santo Patrono con due eventi da giovedì si bala e si cena nel punto di Storo e domenica all'omaggio a San Terenzianino a Reco il castelletto è in vendita a valore 20 milioni di euro scusate a Portofino scusatemi a Portofino il castelletto è in vendita a valore 20 milioni di euro di proprietà del professor Berlingeri scomparso nel 2018 e era passato agli eredi affidato alla Sotibisi International Reality a palestra piscina e un molo privato ristrutturato di recente si raggiunge dal borgo utilizzando un ascensore privato andiamo adesso per davvero a Reco e parliamo del programma delle feste patronali per Nostra Signora del Soffragio che saranno il giovedì e venerdì della settimana prossima giovedì 7 e venerdì 8 la magia della festa tra fede e tradizione per i fuochi attese migliaia di persone ci saranno anche treni e bus speciali per facilitare l'afflusso delle persone serate clou il 7 e l'8 e protagonisti i quartieri appunto con le tradizionali sparate e gli spettacoli pirotecnici lingue e cultura italiana corsi a Villa Durazzo per gli studenti stranieri sono aperti da alcuni giorni e sono destinati a brotarsi sino a fine di settembre ieri c'è stata l'inaugurazione ufficiale appunto dei corsi di lingue italiana per stranieri inclusione sociale la cultura la facilita il progetto arte a Sestilevante venerdì ci sarà l'evento conclusivo e annunziata per spiegare in cosa è consistito questo progetto che è durato due anni e la mattina sarà un momento più tavola rotonda in cui si parlerà del progetto e poi al pomeriggio ci sarà un momento con vari laboratori e un pochino più pratico e interattivo per appunto chi vorrà esserci adesso parliamo di autostrade e autostrade genovesi vediamo sorpresa al casale automatico viaggi in scooter ma paga da bus la denuncia di un pendolare che si muove ogni giorno sullo stesso tratto autostradale quando protesto adeguano la tariffa aspi forse problemi al nuovo software il caso documentato con video in 5 mesi sempre da Bolzanetto a Genova Est ma il baco può essere ovunque la differenza tra le tariffe 1 e 3 nella tratta di 30 centesimi e i passaggi sono migliaia e una brutta avventura anche quella vissuta da alcuni passeggeri all'aeroporto Colombo di Genova vento e voli soppressi o di sé all'aeroporto per 300 passeggeri a Genova abbandonati a noi stessi dicono lunedì sera la cancellazione del collegamento dei collegamenti diretti a Olbi a Catania e Dublina a Dublino caos nello scalo interviene la polizia l'amministratore delegato Righi dice maltempo e problemi tecnici arriviamo adesso alle pagine sportive e partiamo dalle pagine sportive del Levante perché le squadre del Tigullio sono al lavoro per l'inizio della stagione di Serie C Entella sale intensità in vista dell'Ancona Volpe l'ora delle scelte i Bianco Celesti preparano il debutto di sabato con i Dorici e per il Sestri Levante cresce l'attesa verso Ponte Dera Barilari va sul sicuro il tecnico si affida alle pedine di maggiore esperienza e per la Serie D invece a Lavagnese si parla di Luca Rizzo uno dei nuovi acquisti della squadra bianconera Giramondo tra i professionisti per la Lavagnese scusate il ritardo felice ora di essere qui scusate il ritardo perché Rizzo poteva arrivare a Lavagnese già lo scorso febbraio ma poi aveva scelto di giocare con Ligorna che disputava la Serie D mentre invece la Lavagnese era ancora in eccellenza Luca Rizzo che è un centrocampista che ha un lungo passato tra i professionisti ha giocato in Serie A con Sandoria Bologna Spal e Atalante poi con Foggia Carpi e Livorno in B e Provercelli in C Sempre sullo sport parliamo adesso di Serie B parliamo della Sandoria che gioca questa sera alle 20.30 a Marassi contro il Venezia Samp serata da emozioni forti la pressione alta è positiva Pirlo con il Venezia e il Ferrari spunta a cancellare il K.O. con il Pisa e studia un 11 attrazione offensiva in una piazza blasonata come questa è giusto che ci siano aspettative e devono essere uno stimolo ha detto l'allenatore nella conferenza stampa prepartita si parla anche di mercato che sono gli ultimi giorni in cui il calciomercato è aperto e vediamo si cerca ancora in particolare un centro avanti per la Sandoria e per adesso non si è trovato ma ci sono comunque stati tanti acquisti per la formazione primavera e per la Sandoria femminile un'importante novità perché c'è stato ieri mattina il primo allenamento ricordiamo che la società ha rischiato di non potersi iscrivere al campionato perché sostanzialmente la Sandoria ha detto di non avere più soldi a disposizione da investire nella squadra femminile e quindi si cercano intanto nuovi compratori comunque dopo un periodo di lungo impasso c'è stato il primo allenamento le giocatrici rimaste sono poche sono poco più di una decina infatti hanno aggregate anche molte ragazze della primavera e comunque si stanno preparando per l'inizio del campionato che inizierà il 16 settembre si parla sempre di serie B si parla di Spezia anche lo Spezia gioca questa sera sarà di scena anche lui alle 20.30 a Catanzaro in trasferta assalto al Catanzaro attacco al sistema Alvini non mi piace il torneo con X e Y qui si fa riferimento al fatto che ci sono ancora diciamo due posti liberi per la serie B non si sa ancora se saranno di Regine Lecco più probabile di Cipri Lecco più improbabile per la Regina o se ci saranno dei ripescaggi si parla di Perugia e Brescia e appunto l'allenatore dello Spezia si è diciamo scagliato contro queste incertezze infatti alcune squadre non hanno giocato delle partite nelle prime due giornate perché non si sa ancora quali saranno le due squadre diciamo a completare il quadro della serie B parliamo anche di Genoa sul secolo XIX vediamo Badel intellettuale cervello del Genoa ripensato da Gilardino il regista croato protagonista del grande match all'Olimpico vinto dal Genoa appunto in casa alla Lazio e del riscatto dopo la Fiorentina passione per libri luoghi d'arte moglie pianista in campo lettura di linee di gioco e spartito e vediamo Pellegri e il grifone sfida del cuore si insegnano grandi esultanze il ragazzo di Pegli dai gol record di Rosso Blu alla polemica con la Sampa il Torino cerca la consacrazione e domenica affronta il club per cui tifa anche per il Genoa si parla di mercato Arame Puskas per Pojampalo Ide Matassar e Ndombele sempre per lo sport ma non parliamo di calcio ieri l'Italia la nazionale italiana di basket ha vinto con le Filippine che sono anche i problemi di casa ai mondiali l'Italia ritrova la leggerezza Filippine e Domate ora i serbi gli azzurri rimediano ma nel girone per i quarti dovranno fare l'amplein si vede il tiro da tre Bele Tonut Ricci e Fontecchio poi il Pozzeco show e parla proprio Gianmarco Pozzeco il citro nazionale i ragazzi hanno vinto 11 delle ultime 12 partite il presidente mi vuole bene come un figlio e io gli voglio bene come un padre qui si fa riferimento alle critiche sono stati dal presidente federale Petrucci sul comportamento di Pozzeco che nella precedente partita contro la Repubblica Domenicana era stato espulso per un doppio fallo tecnico prima della metà della partita parliamo anche di US Open che sono iniziati vediamo Berrettini Ruggente e Arnaldi Fortunato riscattano i KO azzurdi Matteo Berrettini che ha vinto in 3 set contro la testa di serie numero 29 Ugo Umbert e Matteo Arnaldi invece ha vinto su Kubler che in 2 set perché Kubler si è ritirato per infortunio e Arnaldi Fortunato in questo caso perché appunto aveva perso il primo set per gli europei femminili invece di Palavolo Azzurri e Super vincono 3-0 con la Francia e ora a Bruxelles per restare regine gli europei che proseguono in Belgio a Bruxelles la squadra italiana dovrà affrontare i quarti una tra Polonia e Turchia concludiamo così la nostra pagina sportiva e adesso è il momento di vedere quali appuntamenti ci sono in programma per la giornata di oggi vi anticipo che ci sono molti eventi a sfondo musicale mercoledì 30 agosto proseguono gli appuntamenti di Lavagna incontra gli autori Liguri alle 17.30 Maria Masella presenta i suoi romanzi scritto nelle stelle e tunnel in piazza Ravenna davanti alla biblioteca civica a Santa Margherita Ligure l'Eco Festival Donne e Cambiamento si conclude con la tavola rotonda su ecosostenibilità e ruolo delle donne che inizierà alle 18 al Parco del flauto magico e poi con Isabella Ferrari che proporrà lo spettacolo L'eroine di Ovidio alle 21.15 in piazza Caprera Mozart la bellezza assoluta è il titolo del concerto dell'orchestra alla superba con i cori della diocesi di Chiavari un appuntamento inserito nell'ambito della settimana liturgica nazionale curato dalla fila armonica di Chiavari l'inizio alle 21 in piazza Nostra Signora dell'Orto per i più piccoli a Lavagna c'è il torneo di Monopattini in piazza della Libertà alle 21 quest'estate dalla Ludo Biblioteca per chi ama invece il ballo liscio in colmatina Chiavari Centrico Roseto con la sua orchestra la serata inizia alle 21 alle 21.15 nell'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante il festival estivo di musica da camera si chiude con l'esecuzione dell'opera 47 di Schumann e dell'opera 11 di Fore affidata al quartetto Agora composto da docenti del conservatorio Rossini di Pesaro il legame fra Gianni Berengo Gardin e il borgo di San Fruttuoso è il cuore della mostra allestita nella Abbazia fino a gennaio scatti inediti realizzati durante la pandemia assemblati per l'esposizione da Guido Risicato fino a metà settembre la mostra si può visitare tutti i giorni dalle 10 alle 17 con gli appuntamenti si conclude quest'edizione del Tg Rassegna Stampa noi vi ricordiamo su Telepace 1 la diretta della settimana nazionale liturgica dalla Cattedrale di Chiava di tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta su Telepace 1 da Telepace e poi con l'informazione ci ritroviamo con la prima edizione del Tg Telepace in diretta alle 12.45 buon proseguimento di giornata